Passiamo a Charleroi con un sole veramente strepitoso, lo vedete, lo vedete e questo sole fa sì che la giornata sia stupenda e che Charleroi diventi anche una bella città non lo è per la verità, ci sono poche cose da vedere però oggi c'è anche un bellissimo mercato, fa sì con tanti fiori e tante cose da mangiare un po' di tutto, tipo un mercato delle bucci fa sì che è bello passeggiare qui e per fortuna ha un senso essere qui anche di domenica in questo weekend di Coppa Davis con l'Italia che cerca di fare il suo contro il Belgio abbiamo vinto il doppio e allora oggi ha ancora un po' di significato rimanere qui in Belgio ma a noi tutto fatto ci interessa venire a farci un giretto, un'oretta di strada dall'Italia non siamo così lontani, vedere un po' la partecipazione del tifo, soprattutto quello belga che allo stadio è veramente molto bello e presente e passare un bel weekend è vero Stefano che è lui qui dietro la telecamera che ci sta inquadrando il nostro architetto che fa le caricature dei giocatori italiani e belgi ve li faremo vedere perché li ha fatti veramente di carine anche questa volta allora un saluto dal Belgio, da Charleroi e ci rivediamo presto da qualche altra parte del mondo